abbiamo l'ingresso sulla zona giorno c'è una bella finestra che dà parecchia luce sulla sinistra abbiamo l'angolo cottura la cucina è comunque grande ci sta una bella cucina angolare con poi il frigo che arriva fino in fondo ci sta una bella cucina adesso col telefono magari gli spazi non sono al massimo ma è bella grande questa zona quindi qui si sviluppa tutta la zona giorno con abbiamo visto dove siamo entrati nella zona giorno c'è questa ampia finestra con il suo terrazzino abbastanza profondo in cui abbiamo ecco qua la vista sull'esterno aperta abbiamo uno sgabuzzino e qua un dietro la porta detto la finestra il vano per la caldaia il tetto tutte tra via vista ma è una altezza alta quindi una mansarda ma le travi sono alte piccolo disimpegno che porta la prima camera con palcè tra via vista sempre in tutta l'immobile il disimpegno poi porta a un ampio bagno tutto chiaramente nuovo ma è abitato che la meta più solo il box doccia anche qua tra via vista e poi nell'ultima zona un'altra camera da letto grande anche questa colpa che a terra e anche qua molto luminosa aperta su salice l'immobile nuovo mai abitato in termo autonomo basse spese condominali torniamo indietro al disimpegno camera e vi salutiamo dal terrazzo esterno per info o visite contattateci mettiamo il link nella descrizione ciao e buona giornata a case scontatissime